Mi facevano male I Los Locos Uno L'altro è meno importante e non ci interessa Noi abbiamo sempre la scheda dei nostri personaggi che vado a leggere I Los Locos sono un duo vicentino formato da Roberto Borribello E un altro che non nominiamo perché non è importante Paolo Franchetto però è meno importante Fa bene a non nominarlo perché se posso dirlo Il Bastardo se ne sta a Santo Domingo in questo momento È già un anno che lui sta lì al caldo, palme e sole E che gli vuoi dire? Successi interplanetari Tanto da essere ricordati insieme ai Beatles e ai Rolling Stones Come quelli che hanno cambiato la storia della musica Così sta scritto sui siti Noi non esageriamo mai Colonna sonora di ogni nostra estate dal 1994 L'anno in cui uscì il Meneito Il Meneito Raga Compositori di colonne sonore importantissime Ricordiamo Vacanze ai Caraibi Non so quanti Oscar ha vinto Sicuramente quella la musica E soprattutto un medico in famiglia Ma quando vedevate una nazione intera fare i passi della vostra Macarena per esempio Non vi veniva il sospetto ma questa nazione se ne è andata proprio di testa Sono tutti incoglioniti Cioè che danno abbiamo fatto oppure stanno già male loro e quindi noi non c'entriamo niente Effettivamente si facciano delle cose che io personalmente non avrei mai fatto Però la cosa pazzesca è che abbiamo fatto in posti veramente impensabili Siamo andati in posti addirittura come la Cina, la Birmania, Russia e tutti i paesi un po' particolari Dove ballavano queste canzoni Una soddisfazione pazzesca Qual è il brano a cui voi siete più legati? Cioè è poi quello che vi chiedono di più Che magari non coincide Ma noi forse la canzone che ci piace di più fare E che diciamo ci ha portato a che tantissima fortuna è stato il Tiki Tiki Tac Batti forte il tambone Ma ci sono tra i giovani dei possibili eredi del vostro modo? Dei locchini Dei locchini Perché dopo ormai 20 e passa anni che c'hanno queste canzoni Tuttora nei villaggi turistici Appunto come dici tu nei matrimoni Dove c'è da far festa Ci sono ancora effettivamente i pezzi nostri Ma canzoni come La Vuelta, La Colita, Meneito eccetera Quando c'è da far festa ci sono sempre Per cui per il momento devo dire che noi siamo Anche Enrique Iglesias dove si presenta? Davanti al Meneito Dove va? Ma voi non avete mai partecipato a San Rivo? Ma c'è stato qualche momento In cui diceva proviamo Però una volta con Carlo Conti ci avevamo anche provato Effettivamente Solo che Carlo da noi non so perché voleva un pezzo lento E noi con i lenti non è che siamo proprio Cioè noi siamo più da balli effettivamente Ma non è che aveva scambiato per i jalis Quanto la musica ha condizionato la tua vita? E questo tipo di musica con le ballerine pure Il gruppo E diciamo ha rovinato un matrimonio Mi ha fatto perdere una casa E sì un po' Un grande Però posso dire Un grande Uno che ne parla così A sola A sola A sola A sola A sola Solo stima Solo stima Noi ringraziamo Roberto Perché Roberto solo a te ringraziamo Noi solo a te All'altro All'altro lo invidiamo Circo Pinuccio